L'operatore del settore non può permettersi di dare delle risposte così vaghe, deve dare risposte ben accurate. Se io ho bisogno che qualcosa rimanga in testa a qualcuno, devo parlare assolutamente per immagine. Il museo non è più il deposito del sapere, della tradizione, della cultura, ma rappresenta un po' un volano delle attività sociali.